Infissi in pvc con sconto in fattura. Ciao sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con i sistema Bisacchi. Gli infissi in pvc sono quelli che ad oggi si prestano meglio ad essere acquistati con lo sconto in fattura. Perché dico questo? Perché con l'arrivo del 110% è stato introdotto la possibilità dello sconto in fattura sia sul 50% che sul 110% e sono stati inseriti nel decreto requisiti dei limiti di prezzo massimo al metro quadrato. Quindi capisci che se stai acquistando un materiale troppo costoso che cede questi limiti lo sconto in fattura non diventa più conveniente che lo sconto in fattura è solo su quella parte che può essere incentivata al 50 al 110. Mentre l'infisso in pvc costando poco di base inizialmente è un infisso che è molto probabile riesce a scassare dentro ai parametri del decreto requisiti del 6 ottobre del 2020. Quindi è possibile acquistare un infisso con sconto in fattura. Chiaramente ci saranno delle altre persone che dovranno guadagnare perché saranno dei costi di incartamenti, ci sarà il costo dell'attualizzazione del denaro perché tu incasserai subito questo denaro ma l'azienda che sta acquistando questo credito se lo porterà avanti per i 5 o per i 10 anni a venire a secondo che parliamo di 110 o di 50 per cento di sconto. Però tutto sommato sulla bilancia questo numero qua può essere comunque conveniente avere uno sconto del 50 per cento che realmente potrebbe essere di un 35 di un 40 per cento comunque non poco ma rimane questa cifra qua. Se invece sto acquistando un infisso che cede i limiti al metro quadrato magari questo 50 per cento di inizia ad essere uno sconto solo del 20-25 e a quel punto non è più conveniente. Siccome il discorso infissi sia a livello di incentivi sia a livello di sconto in fattura sia a livello di scelte tecniche è molto complesso ho ideato un servizio di consulenza una vera e propria consulenza che faccio direttamente con i clienti quelli che non posso servire per non avere conflitto di interesse. Quindi se non puoi acquistare le finestre da me perché sei lontano o acquistare un servizio di consulenza dove ti posso aiutare e guidare a fare le scelte giuste. Se vuoi saperne di più vai su www.blogbisacchi.it e richiedi la tua consulenza personalizzata. Ciao e al prossimo video. Ciao e al prossimo video.